Inquinamento a Benafro, vertice in prefettura, terminata poco fa la riunione con amministratori e tecnici, accelerata sul registro dei tumori, nuovi studi sulla piana, gli argomenti affrontati. Bifernina, alto rischio di incidenti per l'unico semaforo rimasto sulla Fondovalle, la segnaletica insufficiente crea un'alta pericolosità, tantissime le segnalazioni degli automobilisti, a Termoli intanto un indagato per l'incidente nel quale morì il piccolo Flavio. Bollette pazze, Castrataro annuncia interventi, a Isernia il sindaco si dice dispiaciuto per i disagi ai cittadini, puntiamo al rapporto diretto con gli utenti per migliorare la situazione, ha detto. Entro l'anno, raccolta differenziata in tutta la città, a Campobasso la SEA traccia un bilancio del 2023 e annuncia che entro il 2024 ci sarà il completamento del porta a porta, nuove iniziative per scuole e uffici pubblici. Maurizio Stecca, ospite a Telemolise, campione olimpico di Pugilato, nei nostri studi racconta la sua straordinaria carriera e il legame con la nostra regione, al Campobasso ufficiale l'ingaggio dell'attaccante Niccolò Romero. Buon poveriggio dalla redazione di Telemolise, in apertura torniamo ad occuparci dell'inquinamento della piana di Venafro perché è terminato proprio in questi minuti un vertice in prefettura Isernia, c'erano amministratori e tecnici, un tavolo permanente con valutazioni trimestrali, nuovi campionamenti e verifiche sulle aziende, sono i temi dei quali si è discusso ma anche si è parlato del biomonitoraggio con le api utilizzate come indicatori biologici e di nuove valutazione dall'ARPA. I sindaci però chiedono di fare presto per avere chiarezza anche sulle fonti di inquinamento e chiedono anche un nuovo sprint sul registro dei tumori. Ma sentiamo Davide Gambardella. Un tavolo permanente in prefettura con cadenza trimestrale per valutare i progressi ma anche nuovi campionamenti per individuare una volta per tutte le cause alla base dell'inquinamento nella piana di Venafro è un'istruttoria per il rinnovo dell'autorizzazione su due opifici. Sono stati questi temi cruciali affrontati durante la lunga riunione di questa mattina tra il prefetto di Sernia, Franca Tancredi, con tutti i sindaci dell'area Venafrana, a cui hanno partecipato tra gli altri anche la regione molise con l'assessore all'ambiente Andrea Di Lucente e l'ARPA, una situazione ancora critica sul fronte delle polveri sottili. L'ARPA rivela che nei primi dieci giorni del 2024 sono già stati rilevati ben quattro sforamenti di PM10. L'impegno istituzionale intanto è corale. Sono tante le azioni messe in campo dal Consorzio di Bonifica contro l'inquinamento del territorio in provincia di Sernia. Monitoraggi con centraline ARPA, ma partiranno anche dei metodi alternativi di biomonitoraggio che vedranno per protagoniste le api, il cui compito sarà quello di individuare i metalli pesanti presenti sulle coltivazioni. È una convenzione col Gal Molise, è una cooperativa che sta nel settore delle api, installeremo delle centraline nella piana di Venafro che grazie al biomonitoraggio delle api, ecco che loro prelemano un ettare sulle varie colture, riusciamo a capire tramite l'analisi del miele poi che cosa, che metalli pesanti ci sono nell'area, nelle circostate. La parte accademica con dati e studi è pronta, anche se dovranno essere prodotti ulteriori elementi di indagine. È il sindaco di Venafro Alfredo Ricci a ribadirlo con forza, per individuare una volta per tutte le fonti di inquinamento sul territorio. Dobbiamo focalizzarci, noi lo diciamo da anni e ci fa piacere che oggi lo dicano anche altri, sulle varie cause. C'è il tema traffico, per carità c'è, ma soprattutto c'è il tema degli opifici che insistono sul nostro territorio e che evidentemente vanno maggiormente attenzionati e monitorati. Dalla Regione Molise intanto, assicura l'assessore dilucente, si prosegue con il monitoraggio delle particelle raccolte. Dopo un anno sarà possibile avere un quadro più preciso sul tipo di particolato presente nell'area. Più complessa invece è la questione del registro tumori. I dati sono aggiornati al giugno del 2023, ma occorre uno sprint per recuperare gli ultimi quattro anni. Il registro tumori ormai sono un paio d'anni che ci stiamo lavorando e completo, mancano solo gli ultimi quattro anni che completeranno nei prossimi mesi. Adesso siamo alla cronaca. C'è una svolta nelle indagini sull'incidente costato la vita qualche settimana fa al piccolo Flavio. Ricorderete quell'incidente accaduto nel territorio di Petacciato. Il nome di una persona è stato iscritto nel registro degli indagati. Ce ne statale 16 in territorio di Petacciato costato la vita al piccolo Flavio Cistullo di 13 anni di Termoli, che si trovava in auto con il papà Riccardo Cistullo, 54 anni, rimasto gravemente ferito. L'inchiesta è coordinata dalla procura di Larino e condotta dalla polizia stradale di Campobasso. Nella giornata di ieri il PM Ilaria Toncini ha dato l'incarico di consulente tecnico a Giovanni Russo. Il legale della famiglia Micaela Bruno, contattata da noi di Televolise, ci ha riferito che non è stato richiesto l'incidente probatorio, ma nei prossimi giorni verrà fatta un'ulteriore perizia sui mezzi coinvolti per ricostruire con esattezza la dinamica dell'incidente. Migliorano le condizioni di Riccardo Cistullo, ricoverato al Cardarelli, dopo essere stato stabilizzato all'ospedale Santimotio di Termoli. Non si trova più nel reparto di rianimazione, ma è stato trasferito nei giorni scorsi in ortopedia. Parliamo ancora di viabilità. Da tempo la Fondovalle del Biferro, interessata da lavori di manutenzione dei viadotti, che hanno richiesto la presenza di semafori per regolare la circolazione. Ora, lungo il percorso non è rimasto uno solo, ma la segnaletica insufficiente per regolare il traffico delle auto, specie quella a terra, rende quel tratto di strada molto pericoloso e le segnalazioni degli automobilisti, anche sui social, sono tantissime. Il servizio di Giovanni di Tota. Finora non ci sono stati incidenti, ma il rischio è dietro l'angolo, anzi sarebbe il caso di dire dopo il semaforo verde per giunta. E a giudicare dalle reazioni di decine di automobilisti al post del direttore di Telemolise Emanuela Petescia, girato anche sulle nostre pagine social, le probabilità che possa verificarsi sono piuttosto elevate. I fatti sono questi lo scenario e uno dei tanti semafori disseminati lungo la Bifernina, l'ultimo rimasto in funzione. Le auto che vanno da Campobasso verso Termoli hanno il semaforo posto alla loro destra, dunque sulla loro corsia di marcia. Quando scatta il verde devono immettersi sulla corsia opposta e sulla destra. Sono sistemati i New Jersey che delimitano il cantiere dei lavori in corso. Di solito le auto che sono ferme in attesa col semaforo rosso dal lato opposto sono ben visibili. Dunque chi percorre la strada capisce quando il senso unico alternato di marcia finisce e si riposiziona nella giusta corsia. Di notte, se dal lato opposto non ci sono auto in sosta, la segnaletica è insufficiente e i pioli che delimitano le corsie sistemati al centro della carreggiata possono indurre in errore e far continuare la marcia nel senso sbagliato. Oltretutto in piena curva, una curva cieca in passato teatro di gravissimi incidenti anche mortali. L'assenza di un segnale di svincolo che impone a terra il rientro nella propria corsia di marcia rende quelle poche centinaia di metri di strada una trappola ingannevole che può diventare pericolosissima in modo particolare, come detto, di notte. Per questo, anche per dare voce alle tante e tantissime segnalazioni ricevute alle migliaia di automobilisti che ogni giorno e ogni notte percorrono quella strada, invitiamo l'ANAS e chi sta eseguendo i lavori di mettere in sicurezza quel tratto con una segnaletica adeguata. Adesso parliamo di sanità. La rete dell'emergenza va assolutamente riformata, così l'assessore regionale Michele Iorio, al termine di un incontro con le associazioni di volontariato del servizio del 118, al quale ha partecipato anche il direttore amministrativo dell'ASREM, Grazia Matarante, per il servizio 118. Ha detto Iorio, le soluzioni tampone servono solo a superare qualche mese di difficoltà, va dunque riorganizzato e strutturato, utilizzando strumenti moderni come la telemedicina, ambulanze attrezzate e strumenti di ricerca avanzati attraverso ogni possibile premialità, anche con provvedimenti regionali, nazionali o europei. Intanto prosegue però l'emergenza relativa alla carenza di personale medico negli ospedali che, nonostante i numerosi concorsi indetti dall'ASREM, molti dei quali andati deserti, non trova soluzione. Un nuovo tentativo è stato avviato dall'azienda sanitaria con un avviso pubblico per soli titoli per il conferimento di incarichi a tre pediatri e a quattro neonatologi. Il provvedimento è stato adottato a seguito della nota con la quale il direttore del reparto di pediatria del Cardarelli ha rappresentato questa urgenza. Torniamo adesso al tema delle bollette pazzi ai seri. Dopo le polemiche e le proteste dei cittadini interviene il sindaco Castrataro. Sentiamo Barbara Fino. Sulla situazione bollette pazze a Disernia interviene anche il sindaco della città, Piero Castrataro, che si dice dispiaciuto riguardo i problemi che i cittadini stanno avendo in queste ultime settimane. In atto interlocuzioni con Ica Creset per cercare una risoluzione alla vicenda e calmare gli animi delle decine e decine di persone vittime di questi errori. Previste nelle prossime settimane consultazioni con le associazioni a tutela dei cittadini. Stiamo interloquendo con Ica Creset per quanto riguarda il capire la casistica perché varia. Ci sono casi in cui sono state mandate doppie raccomandate per la stessa bolletta, case di bollette che erano state già pagate. Ci sono casi in cui alcuni cittadini dicono di non aver ricevuto la bolletta cartacea all'iniziale, quindi subito dopo il sollecito con l'aggravio della raccomandata. Noi stiamo andando, questo lo sottolineo però, nella direzione di un rapporto diretto con l'utente e quello che abbiamo fatto è che abbiamo internalizzato tutti i servizi che potevamo internalizzare, quindi l'Imu, l'Atari e abbiamo lasciato solo per i servizi piccoli, quindi il cosiddetto CUP lo abbiamo esternalizzato. Questo perché crediamo che avere un rapporto diretto con il cittadino anche per una questione di responsabilità sia giusto e ci sia un confronto non mediato da un concessionario privato. Per quanto riguarda le bollette dell'acqua, Castrataro tiene a precisare che l'amministrazione comunale ha dovuto aderire alla Grim, società all'intero capitale pubblico che consentirà di avere contatori digitali e dunque nessun errore nella bollettazione. I vantaggi per il cittadino saranno soprattutto per quanto riguarda la bollettazione per ogni bolletta del reale consumo. La Grim ha vinto un appalto da circa 50 milioni di euro, i contatori saranno tutti digitali, non ci sarà la necessità di leggerli, quindi nessun errore nelle letture, bollettazione solo di quello che viene consumato e quindi anche un monitoraggio continuo dei consumi sia per l'utente ma anche per la Grim per poter efficientare le reti e diventare una vera e propria azienda che gestisce il servizio idrico. Il prossimo 29 gennaio si terrà al Ministero delle Imprese del Made in Italy un incontro per discutere del futuro assetto produttivo con la Gigafactory di Termoli. I sindacati chiedono che in quell'occasione venga fatta chiarezza su quello che sarà il destino dei dipendenti. Vediamo. Il 2024 sarà l'anno decisivo per il futuro dello stabilimento Stellantis di Termoli per la realizzazione della Gigafactory. Il 29 gennaio si terrà un nuovo incontro dopo quello di dicembre al Ministero delle Imprese del Made in Italy dove si discuterà anche della transizione occupazionale. Le sigle sindacali vogliono sapere con certezza quanti lavoratori dovranno essere reperiti all'esterno e chiedono che le altre assunzioni siano riservate ai dipendenti che sono attualmente impiegati nello stabilimento di rivolta del Re. Ha destato preoccupazione la notizia riguardo un possibile bando che ECC avrebbe emanato per reperire personale. A riguardo il segretario territoriale della FIM CISL Marco Laviano ha voluto fare chiarezza. È chiaro che ECC in qualche modo nelle competenze richiederà delle figure professionali particolari, non in tutte le produzioni. Lo sviluppo e le produzioni delle cellule di batterie che poi diventeranno moduli di batteria vera e propria verranno fatti in quattro macrosettori. È chiaro che in alcuni di questi settori ci sarà necessariamente, è doveroso avere delle figure professionali dedicate che in questo momento il gruppo Stellantis non ha. Parliamo di ingegneri chimici, ingegneri di processo, figure professionali altamente specializzate. Quando si parla di bando semplicemente il gruppo ECC ha comunicato che al momento dello spostamento delle persone in trasferta, perché ci saranno e ci saranno una trasferta lunga per la formazione, chiederà fondamentalmente, aprirà un bando interno nel senso che valuterà le esperienze che noi abbiamo all'interno del perimetro Stellantis e capirà se tutte le persone sono collocabili o meno in determinate figure professionali. I sindacati ritengono che la realizzazione della fabbrica di batterie a Termoli porterà benefici in termini occupazionali ed economici per l'intera regione. Termoli si appresta a vivere ancora qualche anno di lavoro buono, anzi non dobbiamo non considerare l'opportunità che ECC e la Gigafactory porteranno, perché mi ricordo che qualche anno fa, due o tre anni fa, all'annuncio della Gigafactory sul Termoli io sostenevo che la doppia opportunità, endotermico e batterie, poteva essere per il nostro nucleo industriale una grossa opportunità e di fatti oggi le circostanze lo stanno dimostrando, perché sul nucleo industriale del Basso Molise, di Termoli stessa, si sta attivando un polo industriale che potrà veramente essere di invidia a tante altre regioni, perché la possibilità che si porterà i fondi del PNRR, i fondi della ZES, in qualche modo sposteranno l'attenzione sulla costa molisana. Dopo il trasferimento di 7 milioni di euro dall'agenzia regionale post-sisma, l'Ace Mance Molise si augura che al più presto possano riprendere i pagamenti a favore delle imprese per portare avanti i cantieri della ricostruzione 2002 e giungere così al completamento dopo oltre vent'anni. Per quanto riguarda il sisma del 2018, l'Associazione degli Edili Molisani confida nella nomina del Presidente Roberti a commissario e nella sua capacità, affermano i vertici dell'Associazione, di accelerare le procedure per dare uno scossone all'attività di ricostruzione. Dopo il super bonus, le possibilità di lavoro per le imprese sono rappresentate dal PNRR e dalla ricostruzione post-sisma, ha detto il Presidente Corrado Di Nilo, per cui confidiamo nell'operato che avvierà il Presidente Roberti nella veste di commissario e sollecitiamo il più possibile gli adempimenti per riprendere i pagamenti legati al terremoto del 2002. Incontro tra il Prefetto di Isernia e gli appartenenti al Comitato Nolotto Zero. Le istanze raccolte dalle associazioni finiranno sui tavoli dei ministeri competenti. Vediamo. Le istanze del Comitato Nolotto Zero finiranno all'attenzione dei ministeri competenti. Lo ha assicurato il Prefetto di Isernia, Franca Tancredi, durante l'incontro che si è tenuto al Palazzo di Governo con le varie anime che dicono no ai lavori per il completamento dell'asse viario Isernia-Castel di Sangro. Dopo il ricorso al TAR e il nuovo invio degli atti sui costi benefici dell'opera e della mancata opzione zero, adesso la documentazione finirà sui tavoli dei dicasteri. In sintesi il Prefetto ha preso atto di quanto abbiamo riportato e riferirà. Il discorso è che purtroppo questi incontri, quando non si focalizzano sugli aspetti importanti, gli aspetti importanti per noi erano questi che perché c'è un protocollo di legalità volevamo sapere come mai un'opera come l'otto zero è transitata nelle opere strategiche senza avere un'analisi costi benefici e con una valutazione di impatto ambientale che non ha l'elemento istruttorio obbligatorio per legge dell'opzione zero. Di sicuro andranno alla Corte di Giustizia europea perché non è possibile che lo Stato agisca da predone in questa regione. Io l'ho già detto un'altra volta, lo Stato deve rispettare le leggi. Qua non esiste la posizione del Comitato, la posizione del Prefetto, la posizione di piante dosi. Esiste la posizione della legge e c'è un contratto tra ANAS e il Ministero di Infrastrutture e quel contratto va rispettato, pretende che ci sia un'analisi costi benefici, quindi prima di prendere i terreni ai cittadini, lo Stato deve rispettare le leggi. Una cosa del genere è inaccettabile, è solo una triste conferma dei timori che tanti cittadini hanno condiviso con me. Quanto afferma il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Andrea Greco pubblicando sui social alcune foto dei pasti arrivati in vaschette e sacchetti di plastica ai pazienti che si trovano negli ospedali di Agnone e Venafro, le state vedendo. I pazienti, dice Greco, riferiscono di pasti che non possono definirsi tali e in molti si organizzano per farsi portare il cibo da fuori. Ricorda poi che il trasporto dei pasti è stato affidato dall'Asre, ma una ditta esterna al costo di 35 mila euro per quattro mesi. Parliamo del solo trasporto a cui si sommano i costi per la preparazione che vanno ad un'altra ditta sempre esterna. Greco fa sapere di aver informato l'assessore regionale con delega alla sanità di quanto sta accadendo e preannuncia che porterà la questione in consiglio regionale. A Capovasso adesso per parlare della questione dei rifiuti, perché stamattina c'è stata una conferenza stampa della SEA che ha fatto un bilancio del 2023 e ha annunciato le priorità per il 2024. La raccolta differenziata è stata ulteriormente allargata e sarà attiva in tutta la città entro la fine di quest'anno. Sentiamo Marta Martino. I risultati della differenziata 2023 a Campobasso sono soddisfacenti e fanno ben sperare per il 2024 quando sarà completato il sistema di raccolta in tutta la città, centro compreso. I dati sono stati illustrati nella conferenza stampa d'inizio anno nella sede della SEA con l'assessore comunale all'ambiente Simone Cretella e l'amministratore unico Stefania Tomaro. Nel 2023 l'incremento è stato dell'8,31% rispetto all'anno precedente, arrivando quindi a poco più del 52%. Un risultato ottimo se si pensa che dalla verifica del materiale una volta arrivato negli impianti risulta che i cittadini campobassani si sono comportati bene, riciclando correttamente soprattutto la plastica, l'organico e la carta. Siamo soddisfatti, c'è un incremento costante della quantità e della qualità della raccolta differenziata. Il dato del 2023 si attesta al 52% quasi 53% ed è un dato molto alto riferito al trend di incremento delle città medie italiane, quindi vuol dire che stiamo lavorando in maniera spedita e tutto ciò ovviamente depone bene in vista del raggiungimento dell'obiettivo minimo di legge che è del 65% che contiamo di raggiungere serenamente nel momento in cui andremo a eliminare tutti i cassonetti ancora residui in città e sostituirli con le ecostazioni. È una procedura in corso che purtroppo ha dei tempi amministrativi che non decidiamo noi ma comunque entro il primo semestre del 2024 il cerchio sarà sicuramente chiuso. L'impegno della SEA resta costante, a tutto tondo con iniziative che oltre a toccare le scuole e i bambini si rivolgerà presto anche alle amministrazioni e agli uffici pubblici. L'informazione ai cittadini resta per la SEA l'attività principale e ha funzionato, se è vero che è riuscita ad invogliare i campobassani a fare il loro dovere e a riciclare correttamente e anche se ancora ci sono comportamenti di singoli che violano le direttive comunali si può comunque dire che il messaggio sia arrivato a destinazione. Ognuno di noi si dovrebbe porre il quesito come vorrei che fosse la mia città e cosa posso fare io per migliorare la mia città e quindi probabilmente con molta lealtà di spirito ci dovremmo rispondere che se ognuno di noi facesse una raccolta in senso civico probabilmente tanti problemi non li avremmo. Il sistema di raccolta porta a porta è proprio concepito affinché chiaramente ci sia una meticolosità nel conferimento con altrettanta meticolosità da parte del gestore nel ritiro e con altrettanta meticolosità finale nel controllo del territorio. Se io di notte vado a sversare dei rifiuti faccio fatica a pensare che ci sia un sistema di controllo H24 che possa garantire il monitoraggio di comportamenti che rasentano al di là della buona o cattiva educazione una percezione molto basta di senso civico e di collettività. La riduzione dei rifiuti indifferenziati cioè buttare di tutto senza riciclare niente con il problema dell'impatto ambientale costituito soprattutto dalla plastica ammonta a 2.108 tonnellate in meno e questo significa meno problemi per il decoro urbano e meno costi di smaltimento in discarica. Nell'ottica di rendere servizi più comodi ai cittadini si è rivelato molto gradito ai Campobassani l'eco punto di via insorti di Ungheria per la raccolta degli oli vegetali esausti e dei piccoli elettrodomestici. Adesso parliamo di un incendio a Ripa di Mosani. Nella tarda mattinata una scuola dei vigili del fuoco di Campobasso è dovuta intervenire per un incendio di una cabina elettrica. Probabilmente l'incendio è dovuto al surriscaldamento di un cavo elettrico. Sul posto sono intervenuti anche i tecnici dell'Enel. È stato invece siglato un accordo di cinque anni tra l'Università del Molise e la Federazione degli Sport Equestri. Un protocollo d'intesa con finalità anche di ricerca. Vediamo di che si tratta con Tonino Danese. Infatti a caccia di trofei persino a Santa Marinella c'era andato Piero Dinzeo. Erano chiamati fratelli invincibili Raimondo e Piero Dinzeo la cui famiglia era originaria di Monte Cilfone. Negli anni 50 e 60 del secolo scorso fecero incetta di medaglie alle Olimpiadi in uno degli sport più eleganti, l'equitazione. Il connubio e la simbiosi che si creano tra l'uomo e il cavallo si esprimono nelle gare. Allenamento, passione e soprattutto amore per un animale intelligente, bello, sensibile. Anche in Molise l'equitazione è praticata e gli atleti, iscritti alla FISE, Federazione Italiana Sport Equestri, raggiungono ottimi risultati. È stato siglato un accordo di 5 anni con l'Università del Molise. Il protocollo è stato firmato dal professor Giuseppe Calcagno, referente di progetto per l'Unimol e Laura Praetano, delegata FISE Molise. Siamo davvero orgogliosi di aver potuto siglare questo importante protocollo di intesa con la Federazione Italiana Sport Equestri. Gli interessi sono molteplici. Lo sport equestri è una disciplina importante in ambito sportivo e quindi interessa ovviamente i nostri corsi di laurea in scienze motorie sportive. Non solo, ma il cavallo è uno strumento importante anche nel trattamento di alcune patologie neurologiche e quindi questo ci ha spinto a siglare questa convenzione nell'idea e nei progetti futuri di poter avviare sia progetti di ricerca sia di poter indirizzare i nostri laureandi in attività motorie adattate verso tirocini di questa tipologia. Soddisfazione anche da parte di Laura Praetano che ha lavorato pure alla realizzazione di progetti a carattere sociale per le fasce deboli. La Federazione Italiana Sport Equestri sia a livello nazionale che locale dialoga da sempre con tutti i livelli istituzionali. È stato un onore per noi poter siglare questo protocollo di intesa con l'Università degli Studi del Molise auspicando che questo possa dare sempre maggiore visibilità agli sport equestri non solo nell'ambito prettamente legato alle attività sportive ma anche nell'ambito della ricerca, della presentazione di documenti e eventuali convegni. Domani a Trivento nuova iniziativa dell'Associazione Centro Storico che presenta un documento nel quale mostra alla cittadinanza come vorrebbe trasformare il centro storico del paese in un polo culturale. Crediamo nella ricchezza del nostro patrimonio materiale e immateriale hanno spiegato i promotori e siamo convinti della necessità di scommettere su di esso per rigenerare il nucleo fondativo della città. L'incontro in programma dalle 10 alle 13 al polifunzionale di via Marconi discuteranno del documento con i promotori, anche amministratori, rappresentanti delle istituzioni, ricercatori e professori universitari. All'ex GIL di Campobasso è andato invece in scena lo spettacolo di William Mussini di 2039, la mia ora di libertà. L'appuntamento rientrava nel cartellone della rassegna teatrale OFF dedicata agli autori molisani. Vediamo. Si intitola 2039, la mia ora di libertà. Lo spettacolo teatrale di William Mussini interpretato da Maria Teresa Spina è andato in scena all'auditorium ex GIL di Campobasso nell'ambito della rassegna teatrale OFF, rassegna dedicata agli autori molisani. Parla principalmente di transumanesimo, è un movimento di pensiero nato qualche decennio fa e quindi ha a che fare con il futuro. Io ho immaginato questo anno 2039 che vede l'attuarsi della singolarità, questo evento profetizzato anche da Asimov o ad autori come Philip Dick. Quindi si parla di fantascienza in poche parole. Regista, autore di cinema e di teatro e anche scrittore, Mussini mette insieme diversi percorsi artistici. Li metto insieme sì, perché in realtà da ragazzo scrivo poesia e facevo fotografia. Poi queste cose sono cresciute insieme a me e si sono evolute nel cinema, perché il cinema è proprio l'unione fra la letteratura, quindi la narrativa e la fotografia in movimento. Il teatro è una cosa che ho sperimentato qualche anno fa, la prima commedia l'ho scritta nel 2011. Mi ha divertito molto e ho continuato. Difficile mettere insieme, seguire questi percorsi in una regione come il Molise? Sì, è difficile ma non è impossibile. Anzi, paradossalmente il Molise offre l'opportunità un po' a tutti perché diciamo che c'è una concorrenza tra virgolette abbastanza blanda e quindi possiamo sperimentare, possiamo essere pionieri, continuare e andare avanti in una terra come questa che va comunque rispettata anche se non offre tanto. La segna off che si è aperta lo scorso 27 dicembre avrà i suoi ultimi due appuntamenti il 17 e il 24 gennaio. In scena Love Rides di Econ Giulia De Felice insieme a Simone Amoruso e Massimo Ciocca e poi Attimi di Eterno e tutto cominciava di Econ Luca Di Tommaso e con Bianca Mastromonaco. A Colli al Volturno invece torna la tradizionale festa di Sant'Antonio Abbate, l'appuntamento è da oggi al 17 gennaio con un programma molto dettagliato. Folclore, cultura ed enogastronomia saranno i protagonisti dell'evento. Per martedì 16 è prevista la tradizionale benedizione con l'accensione del fuoco sacro. Bene, con questo appuntamento termina il nostro telegiornale delle 14, vi lascio al meteo, poi ci sono le notizie sportive. Buon pomeriggio o più tardi. Grazie a tutti.